Bella a tutti i miei slimes, qui alb, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo video e oggi andiamo ad analizzare le carriere dei rapper che hanno partecipato all'edizione 2016 del Freshman Cyper. Tuttavia non parleremo di tutti e dieci gli artisti che appunto ogni anno vengono nominati da XXL per partecipare a questa specie di contest ma ci concentreremo soprattutto su Liliadi, Kodak Black, 21 Savage, Lil Uzi Vert e Denzel Curry. Ho già fatto questo tipo di video per la scena trap italiana del 2016 quindi ve la lascio in descrizione nel caso in cui ve lo foste persi. Io direi di partire da Lil Uzi Vert e se ho il telefone perché sto leggendo i progetti che hanno droppato gli artisti in modo tale che possa anche ricordarmeli, come al solito prima di cominciare se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina, lasciate un mi piace e un commentino. Io direi di partire da Love is Rage, il primo tape di Lil Uzi Vert tra virgolette commerciale perché in realtà prima erano usciti altri progetti, comunque io sono affezionato tantissimo a questo progetto che secondo me è underrated perché gran parte dei fan di Lil Uzi Vert non lo conoscono comunque non l'hanno mai ascoltato ma ci sono canzoni assurde nonché le sue prime hit e vi consiglio vivamente di recuperare Lamborghini Dream con Yantag ma anche All My Chains o Top. Nel 2016 arrivano i suoi due migliori progetti o quantomeno quelli a cui io personalmente sono più legato e sto parlando di Lil Uzi Vert vs The World and The Perfect Love Tape. Entrambi sono bellissimi, hanno una vibe pazzesca e secondo me c'è il prime Lil Uzi Vert nel senso che le vibes che ho ascoltando questi progetti sono le stesse nonostante sono passati sei anni. Nel 2017 arriva il suo primo album ufficiale se non ricordo male ed è Love is Rage 2. A mio avviso tuttora forse il suo progetto più mainstream o almeno io ho questa impressione. Vi dico la verità, in generale quasi tutti lo reputano un gran album o comunque è molto molto bello. Per me è questo, è un bel progetto ma sinceramente se mi chiedete di fare una top 3 magari dei progetti migliori di Uzi non lo metto nelle prime posizioni. Cioè secondo me è un bell'album ma non mi ha fatto impazzire. Nel senso che quando voglio ascoltarmi Lil Uzi Vert spesso e volentieri preferisco ascoltarmi qualcos'altro. Ma anche in questo caso ci sono hit assurde e una su tutte Exo Tour Life. Dalla Love is Rage 2 in poi c'è una pausa praticamente di tre anni in cui Uzi scompare un po' dai radar e lavora al suo prossimo progetto, quello che poi uscirà nel 2020 e sarà proprio Eternal Etake. Il problema principale di quando si aspetta così tanto tempo prima di droppare un album è che chiaramente le aspettative crescono sempre sempre di più. E secondo me nonostante questo Uzi quando ha droppato questo progetto ha fatto il botto perché mi ricordo ancora la prima volta che l'ho ascoltato. Innanzitutto uscì tipo alle 6 italiane, un orario molto insolito e non parlo delle 6 di mattina ma proprio delle 18 di sera. Ero in macchina, stavo guidando, vedo che esce, metto in play e mi catapulto in un altro universo perché le prime tracce del disco poi sono tutte hard. Sapete che il progetto è diviso in tre parti e se non lo sapete vi lascio il link in descrizione che ho fatto sull'Illuzi Vert in cui spiego anche questo aspetto che secondo me è molto molto interessante. E in generale dopo un Love is Rage 2 che non mi aveva pienamente convinto, qua ritrovo un Uzi che invece mi fa impazzire. Come se non bastasse una settimana dopo arriva anche la Deluxe Edition che in realtà è un altro disco ed è proprio Love vs The World 2, un altro progetto di cui negli anni passati si era parlato molto, si era vociferato ma non c'era nulla di ufficiale. Uzi lo droppa così, totalmente a caso. E anche in questo caso, come potete vedere qua sopra, è un progetto che io personalmente amo. A differenza di Eternally Take dove i fit erano pochi e non erano quelli che la gente si aspettava, qui invece ha messo di tutto e di più e troviamo Chief Keef, Future, Yantag, Gunn e via dicendo. Nel 2020, come se non basta, droppa anche un joint tape con Future, un altro album assurdo perché Uzi è uno dei miei artisti preferiti, Future lo stesso e quindi quando è stato annunciato questo joint tape io onestamente sono impazzito. Attualmente Uzi sta anche lavorando al suo prossimo progetto, quello che sarà The Pink Tape e nell'attesa ha droppato Red and White ma non intendo parlarne, vi lascio al link e ho fatto una reaction perché altrimenti ci dilungheremmo troppo. Cosa possiamo dire di Uzi nel suo percorso musicale? Secondo me ha avuto un'evoluzione super coerente e soprattutto, come dire, bella perché alla fine lui da quando è incominciato a fare musica non è cambiato più di tanto, è sempre rimasto più o meno lui, nonostante il suo sound chiaramente si sia evoluto. A differenza del mercato italiano, in quello americano il rap, la trap vanno forti, vanno in classifica, quindi non c'è bisogno di convertirsi o comunque avvicinarsi più di tanto al pop, così come abbiamo visto appunto nel video della scena trap italiana. E quindi questa è una cosa che a me piace di più perché in questo caso Uzi non si è snaturato ma comunque ha avuto un'evoluzione che personalmente, ripeto, sono fanboy, a me piace tantissimo. Benissimo, abbiamo parlato solo di Uzi e se ne è andato un quarto d'ora, muoviamoci subito e andiamo con 21 Savage, un altro artista che secondo me ha avuto un'evoluzione clamorosa, ma non voglio fare spoiler, quindi parliamone meglio alla fine. Partiamo da Savage Mode, trascuriamo i tape che sono usciti prima, a modo suo secondo me con questo lavoro ha influenzato un sacco di rapper e ha gettato uno stile per certi versi nuovo perché lui comunque rappava su questi beat trap di Metro Boomi molto cupi con una cattiveria e con questa voce molto raga che quasi non si sentiva, è riuscito a creare un immaginario, non lo so, da serial killer, quindi io questo tape chiaramente lo amo. Nel 2017 esce Issa Album, un album che ai tempi era attesissimo ma quando è uscito in realtà non ha avuto tutto il successo che secondo me si meritava perché secondo me è molto underrated, nonostante non lo inserisco tra i migliori progetti di 21, però secondo me ci sono canzoni assurde, la cosa che non era piaciuta ai tempi alla gente era il fatto che si sentiva comunque un 21 Savage che iniziava a essere o comunque a fare canzoni mainstream mentre tutti volevano solo il suo lato trap cattivissimo. Nel 2017 esce Without Warning Joint Tape con Offset totalmente prodotto da Metro Boomi, già questi tre nomi vi potrebbero aiutare a capire quanto cazzo fa paura questo disco e infatti secondo me è molto molto carino. Nel 2018 invece arriva I Am Better Than I Was, immagino che comunque sia questo il titolo, che dire già da qui l'evoluzione di 21 Savage inizia a farsi veramente veramente bella perché troviamo qui un 21 molto più tecnico, molto più bravo anche proprio nello scrivere i testi e molto più evoluto anche a livello musicale perché non è più il 21 Savage di Savage Mode che sa fare solo trap, cruenta, cattiva, criminale. No, lo troviamo anche in altre salse e con altri sound e questa evoluzione arriva poi al punto più in alto in Savage Mode 2. Il secondo capitolo di Savage Mode, totalmente prodotto da Metro Booming ancora una volta, mantiene comunque quella cattiveria del primo volume ma si vede che è un rapper molto ma molto più completo e infatti ci sono pezzi anche che si distaccano da quel mood cruento ma che sono comunque belle perché ormai 21 Savage a mio avviso, parlando anche della sua evoluzione visto che questo era l'ultimo progetto che ha droppato, è uno dei rapper più completi e credo più forti del rap americano. Io direi che adesso possiamo buttarci su Liliati che io ho sempre chiamato Liliotti ma so che questa pronuncia è sbagliata e quindi di regola è Liliati, mi sforzerò di chiamarlo così. Nel 2016 caccia tre tape molto interessanti, vale a dire After the Boat, Lil Boat e Summer Songs 2. Soprattutto io mi concentrerei su Lil Boat che è il progetto che ai tempi l'ha mandato in hype da fare schifo e con cui si è fatto conoscere. Prevalentemente influenzato dal soundtrack, Liliati riesce a metterci qualcosina in più perché porta questa vibe molto happy, molto felice, che ai tempi era nuova, no? Era nuova. Infatti poi è stato definito Bubble Gum Trap o Happy Trap, però a me questi nomi mi fanno un po' cagare e quindi mi limito a dire che è riuscito a reinterpretare il suono trap a modo suo. E questa cosa, ripeto, ai tempi l'ha fatto andare subito molto viral anche con canzoni come One Night che soprattutto ai tempi può definirsi la sua più grande hit, insieme forse a Broccoli. Comunque nel 2017 arriva Teenage Emotion, quello che è il suo primo progetto ufficiale. C'era molto hype a riguardo, io mi ricordo che ai tempi questo progetto lo ascoltai e mi piacque molto. Tutt'ora non lo sento da parecchio, ma secondo me tutto sommato è un bellissimo progetto se non fosse che già da qui le persone avevano incominciato a intravedere in Liliati un decadimento che poi negli anni vedremo si è sempre accentuato di più. E di conseguenza nel 2018 arriva Lil Boat 2, quello che è il secondo capitolo chiaramente di Lil Boat. Ci mette anche dei feat molto interessanti come Young Boy Never Broke Again, Offset, Lil Baby, Lil Pump e via dicendo. Secondo me anche in questo caso è un tape sufficiente, ok? Non dico che è discreto ma non dico che è nemmeno una merda, come invece molte persone lo definirono ai tempi. Questi sono un po' gli anni più bui del rapper perché perde un sacco di hype e si inizia a pensare che non sia in grado di fare gli album. E questo viene dimostrato da Nothing To Prove perché, scusate il gioco di parole, però anche questo progetto in realtà alla critica, al pubblico non è andato giù, nonostante ancora una volta secondo me non è così male. Nel 2020 invece c'è la rinascita. Gliati riesce ad uscire finalmente da questo periodo nero e droppa Lil Boat 3 che, a differenza del secondo capitolo, è stato apprezzato molto di più. 19 brani, un po' pesante, però va visto un po' come una compilation e comunque ci sono diverse canzoni interessanti. Segue una deluxe edition, Lil Boat 3.5, e poi nel 2021 ha droppato un progetto molto underrated che secondo me avrebbe meritato più attenzione. Sto parlando di Michigan Boy Boat, un progetto in cui ha messo un sacco di artisti che ai tempi erano underrated e invece oggi, nel 2022, piano piano si stanno prendendo la scena. E sto parlando soprattutto di Icewear Vezo, Babyface Ray, Rio da Yangoji, Sada Baby. Insomma, ha messo parecchia scena di Detroit. Tra l'altro presto uscirà un video su Detroit, fatemi sapere se lo volete, lo sto preparando e lo farò benissimo. Quindi, da questo punto di vista, in realtà è stato anche, per certi versi, un visionario, comunque uno che ci ha visto lungo su questi artisti. Quindi, cosa dire della carriera di Liliati? Secondo me, vedendo soprattutto il suo inizio, aveva molto ma molto più potenziale, poteva diventare un artista mainstream proprio che spaccava le classifiche. Come abbiamo visto, ha vissuto molto di momenti. Momenti in cui era in hype, poi c'è il momento più o meno dal 2017 al 2020, in cui purtroppo aveva perso parecchio hype. Però poi è riuscito a tornare nella scena e tuttora, secondo me, non sarà il miglior rapper americano, ma tutto sommato mi piace. Non me lo ascolto chissà quanto, ma secondo me non è così male. Io passerei a parlare di Kodak Black a questo punto e ci teniamo Denzel Curry per la fine. Kodak Black è un altro artista a cui io personalmente sono molto legato. Vi dico la verità, ci ho messo un po' a capirlo. Visto che è una carriera bella densa di progetti, io direi di partire dal 2016, quindi da Lil Big Pack, che è un progetto che a me è piaciuto, 12 brani, uno dei più brevi perché poi da qui in poi saranno lunghi e infatti così come vediamo nel 2017 c'è Painting Pictures, dove arriviamo a 18 brani. Questo album, ragazzi, è bellissimo e purtroppo Kodak Black è un artista che qui in Italia non è chissà quanto apprezzato e sono anche dell'idea che questo album non molti l'avranno ascoltato. Vi consiglio di farlo perché ha davvero una vibe pazzesca. Troviamo Kodak Black con le sue solite melodie, featuring interessanti, future untagged, insomma recuperatelo. Ma non è l'unico progetto che esce quest'anno perché arriva anche Project Baby 2, quello che secondo me è il miglior progetto di Kodak Black. Se la batte con Painting Pictures, però qui ci sono alcune delle canzoni migliori di Kodak. È un progetto molto lungo perché sono 19 brani ma poi c'è un'altra deluxe edition che tipo ne aggiunge 8, ma ci sono canzoni assurde e ripeto alcune delle sue migliori. Balziamo quindi al 2018 con Heartbreak Kodak che è un progetto droppato, se non ricordo male, sì, in occasione di San Valentino di quell'anno, quindi il 14 febbraio ed essenzialmente è un progetto tutto a tema love. Nel 2018 esce anche Dying to Live, un altro bellissimo album di Kodak, probabilmente questo il suo più mainstream perché qui ci sono canzoni che hanno fatto streaming assurde, mi riferisco a Calling My Spirit o soprattutto Zizi contro i biscotti e Offset e a me questo progetto piacque davvero tanto ai tempi. Per due anni in questo caso non dropperà nulla ma tornerà nel 2020 con Bill Israel. Con questo progetto lui celebra il suo divenire un ebreo israelita, cambia religione e infatti cambia anche nome all'anagrafe e nel 2022 arriva Back for Everything, un altro album ufficiale, secondo me molto molto carino, uno non saprei se è dei migliori usciti quest'anno, però sicuramente è underrated. Cosa possiamo dire dell'evoluzione di Kodak Black che secondo me lui è un artista con un potenziale davvero davvero grande che però purtroppo non abbiamo mai visto al massimo della sua espressione a mio avviso per via del suo essere proprio Kodak Black, un po' coglione, è stato moltissime volte in prigione e quindi secondo me non abbiamo ancora visto il miglior Kodak Black ma chissà, speriamo che abbia messo la testa a posto e rimane solo a questo punto Denzel Curry. Come Ercomi nel video della scena trap italiana, di questi rapper Denzel è quello che meno mi ha preso, posso dirlo, è una questione mia di gusti, è un pochino più lontano da quello che di solito ascolto ma ora vediamo anche nel caso suo. Io direi di partire da Imperial che il suo album del 2016 secondo me è molto molto godibile, non il mio preferito perché ora vi dico a me anche lui è un artista che nei primi tempi non mi ha preso, mi ha incominciato a prendere dal 2018 dove esce Taboo quello che secondo me è il suo album più mainstream e secondo me su questo siamo tutti d'accordo ma a prescindere da questo è un progetto davvero davvero fatto bene, anche in questo caso è diviso se non sbaglio in tre parti o forse quattro però è uno dei migliori usciti nel 2018 e anche in questo caso featuring molto interessanti. Poi nel 2019 esce Zoo, un album secondo me carino, a me è piaciuto però per certi versi mi è sembrato quasi come se lui volesse ricreare un taboo 2.0 e invece rispetto a quello è un pochino meno potente quindi questa cosa diciamo che non mi ha fatto mai stravedere per questo progetto ma comunque anche in questo caso ci sono banger devastanti. Nel 2020 esce Unlock totalmente prodotto a Kenny Beats ma io direi di giampare direttamente a Melt My Eyes See Your Future, il suo album uscito quest'anno. È un progetto di cui ho sentito solo parlarne bene sia dai fan ma anche proprio magari dalla critica dai magazine e via dicendo. Io personalmente l'ho recuperato non troppo tempo fa perché non avevo mai avuto il tempo di ascoltarlo e sinceramente non mi ha fatto impazzire. Vi posso dire la verità, non mi ha fatto impazzire, è un Denzel Curry sicuramente diverso, molto più rap e per certi versi con una visione molto più chiara di quello che sta facendo, cioè si vede che è maturato tanto però non lo so, non è riuscito proprio a prendermi ma parlo proprio a livello personale mio, non sto dicendo che è un brutto album anzi. Anche in questo caso come vogliamo giudicare il suo percorso, lui secondo me con Taboo ha avuto l'occasione di diventare un artista mainstream ma non è il percorso che ha voluto intraprendere, ha preferito invece mettere per certi versi prima la musica che magari la fama, i soldi eccetera eccetera. E quindi questa è una scelta che io rispetto tantissimo che però forse l'ha un po' penalizzato a livello proprio di hype e quant'altro. Quindi ragazzi che dire, queste sono un po' le mie impressioni sugli artisti che hanno partecipato a quell'edizione clamorosa del Freshman's Hyper del 2016. Secondo me tutti attualmente sono artisti assolutamente di livello e quindi magari se vogliamo fare un confronto con quelli della scena trap italiana non sono calati diciamo di prestazioni e in generale di qualità ma anzi sono andati tutti piuttosto forte. Ma ricordiamo anche che il mercato musicale americano è ben diverso da quello italiano. Voi invece cosa ne pensate? Chi è tra questi cinque artisti che vi piace di più o che vi ha deluso di più da cui vi aspettavate di più ma in generale anche quello che voi pensiate che abbia avuto la migliore evoluzione? Lasciatemelo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto chiaramente vi invito a lasciare un mi piace, un commento. Se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.